Non si può abbassare un po' il volume, mi chiedo scusa. Va bene, al momento non è presente, prego. Grazie. Lanzotti. Presente Lanzotti? No. Assente. L'Ebro? Presente. Lettieri? Assente. Madonna? Presente. Mansueto? Presente. Aspetta, più lontano di così ragazzi. Marrazzo? Siamo tutti in questa saletta qua di giù. Dobbiamo fare la seconda. Non potete entrare? Scusate, Marrazzo, quindi rassente al momento. Mascolo? Presente. Moretto? Assente. Mundo? Presente. Presente. Pace? Presente. Presente. Palmieri? Presente. Pentangelo? Assente. Assente al momento. Pentoriero? Presente. Presente. Pinto? Assente. Troncone? Presente. Tuccillo? Presente. Presente. Uriano? Presente. Presidente, al momento sono presenti 17, sono assenti 7 ore 11.22. 11.22, oltre ai già chiamati, chiamiamo anche quelli che inizialmente erano assenti. Iovino? Presente. Presente. Lanzotti? Presente. Lettieri? Lettieri c'è? Assente. Marrazzo? Presente. Moretto? Presente. Pentangelo? Presente. Pinto? Presente. Allora, Presidente, sono presenti 23 consiglieri alle ore 11.23. Nominiamo scrutatori il consigliere Moretto, il consigliere Mascolo e il consigliere Libro. Il primo punto all'ordine del giorno è la surroga del consigliere Ascio. Per continuare con una riunione che noi stavamo facendo dall'altra parte, se era possibile chiedere 5 minuti di sospensione. Grazie. Grazie. Accordiamo 5-10 minuti di sospensione. Per quanto siete bravi, facciamo 10 minuti. Per quanto siete bravi, facciamo 10 minuti di sospensione. Per quanto siete bravi, facciamo 10 minuti di sospensione. Per quanto siete bravi, facciamo 10 minuti di sospensione.